Ben trovati la TG della mobilità nell'ambito della realizzazione della nuova piazza dei Cinquecenti della relativa viabilità della zona da questa sera alle 22 e sarà chiuda via delle Termi di Diocleziano. I bus saranno deviati sulla nuova corsia preferenziale realizzata in viale Luigi e in Audi. La fermata di via delle Termi di Diocleziano viene disattivata. I lavori sono a cura di Anas. Per un cantiere in viale Rossini all'altezza di via Mercadante sono adeviate le linee 3 bus 19 navetta 223 910. È tutto dal TG della mobilità.